Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo. Ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare? Io vi benedica e la Santa Vergine che protegga. Laudentur, Iesus e Maria a tutti cari amici. Siamo insieme per una nuova puntata del Catechismo Romano del Concilio di Trento. Se non vaderà dovrebbe essere la diciottesima puntata e questa sera inizieremo, non so se si concluderemo, ma affronteremo certamente insieme un bellissimo tema che è l'articolo numero 11, la risurrezione della carne. Credo alla risurrezione della carne. Penso uno dei misteri più belli e più consolanti. Facciamo appena in tempo a celebrarlo, a celebrarlo, a commentarlo nel tempo di Pasqua, ma non lo finiremo tutto perché è abbastanza articolato e quindi va gustato piano piano, senza fare le corse alla fine della puntata e senza nemmeno appesantire troppo la puntata. Io non mi perderei in troppe eccessive introduzioni in modo tale che possiamo subito entrare nel vivo dell'argomento. Mi sembra che ci siano anche abbastanza persone collegate, sia su tutti quanti le piattaforme, quindi possiamo davvero cominciare. Articolo 11, la risurrezione della carne. numero 128, significato dell'articolo. Che questo articolo abbia molto valore per rafforzare la verità della nostra fede è ben chiaro dal fatto che è non solo proposto ai fedeli dalle Sacre scritture perché lo credano, ma viene anche confermato con molti argomenti. Questo realmente accade per gli altri articoli del simbolo. Si può quindi comprendere come su di esso poggi la speranza della nostra salvezza, come sul solidissimo fondamento. Infatti, argomenta l'apostolo, se non vi è la risurrezione dei morti, neppure Cristo è risorto. E se Cristo non è risorto, è inutile la nostra predicazione, così come inutile è la vostra fede. nello spiegarlo dunque il parroco non porrà minore impegno di quanto si affaticarono molti empi nel distruggerlo. Sarà dimostrato fra poco come dalla sua conoscenza ridondino a vantaggio dei fedeli, grandi e segnalate utilità. È chiaro che qui, figlioli miei cari, siamo in un nodo nevralgico della nostra fede divina e cattolica. Perché San Paolo qui ci ha dato un passaggio delle lettere di San Paolo fondamentale. Se Cristo non è risorto, allora, è inutile la nostra predicazione. Uno, che predichiamo a fare? Anche quello che sto facendo io stasera, evidentemente. Secondo, inutile la vostra fede? Cosa credi a fare? Più avanti, rincara la dose. Se Cristo non è risorto, voi siete ancora nei vostri peccati. Non solo. Se Cristo non è risorto, noi cristiani siamo da compiangere più di tutti gli uomini, perché siamo proprio, vi si perdoni, questo non lo dice San Paolo, è una glossa che faccio io, i re degli idioti, i re dei cretini. Perché? Perché la vita cristiana, per quanto sia bellissima, ma inevitabilmente comporta delle privazioni, comporta dei sacrifici. I cristiani non vivono come i mondani, non si concedono tutto, non provano tutte le esperienze, non fanno tutto. È chiaro. Ora, è vero, certamente, che il peccato ha il suo salario già adesso, perché chi pecca non sta bene, sta male, anche se si illude di trovare nel piacere e nel peccato la felicità. Però è anche vero che, pur avendo delle conseguenze, come dire, negative, produce un piacere e un diletto immediato, altrimenti nessuno peccherebbe. Ora, il motivo per cui ci si stiene dal peccato non è solo, come dire, evitare le conseguenze negative che del peccato si sentono già nella vita presente. Perché? Perché, purtroppo, come è noto, queste non sono evidenti. Cioè, non è evidente che una persona che soffre di un malessere psicologico diffuso, fino ad aggiungere a depressione, questo potrebbe dipendere, e in alcuni casi idealmente dipende, dalla vita molto disordinata che ha fatto, che accumula disordine oggi, disordine su domani, ti spacca il cervello. Però, chi l'ha detto questo qui? Come fai a dimostrarlo? Difficile, no? Allora, l'argomento del... Esiste un'altra vita? o no? Esiste o non esiste la disurrezione? Risorgono tutti? Risorgono tutti allo stesso modo? E questo è un argomento abbastanza importante, perché se con la morte andiamo sotto un metro di terra, è un discorso. Se con la morte non è semplicemente andare sotto un metro di terra, ma c'è anche qualche altra cosa, è un altro discorso. E guardate, l'ho sempre detto, cioè, su queste tematiche essenziali, oltre che esistenziali, non si può fare a meno di interrogarsi. Chi non lo fa è un incosciente, mi si perdoni, nessuno si sente offeso. Perché tutti sappiamo che dobbiamo morire, tutti. Noi non abbiamo, come dire, il lusso degli animali. Gli animali, se vedono, cioè, se un cane vede vicino a sé un cane morto, non è che prende la coscienza del fatto che un giorno morirà anche lui, o un gatto. Ma noi sì. Credo che nessuno sia così sciocco da pensare che non morirà mai. E dopo? E a questa domanda non soltanto bisogna porsela, ma bisogna anche risponderci bene. Va bene, questo è l'articolo introduttorio anche del catechismo. Andiamo adesso a vedere i singoli paragrafi. Perché si dice risurrezione della carne? Paragrafo 129. Si dovrà osservare anzitutto che la risurrezione degli uomini in questo articolo è detta risurrezione della carne. Ciò non è stato fatto senza ragione. Poiché gli apostoli vollero insegnare così una verità che è necessario ammettere l'immortalità dell'anima. E perché nessuno credesse che l'anima muore con il corpo e fossero poi entrambi richiamati alla vita mentre da moltissimi luoghi della Sacra Scrittura l'anima risulta certamente immortale nell'articolo si fa menzione solamente della risurrezione della carne. E sebbene spesso anche nelle Sacre Scritture la parola carne significhi tutto l'uomo come per esempio in Isaia ogni carne è come fieno e in San Giovanni il verbo si fece carne tuttavia in questo luogo questo significa il corpo per farci comprendere che delle due parti anima e corpo di cui è composto l'uomo la seconda sola cioè il corpo si corrompe e ritorna nella polvere della terra dalla quale fu tratto mentre l'anima rimane incorrotta. Ma poiché nessuno è richiamato alla vita se prima non sia morto dell'anima non si può propriamente dire che risorge. si fa menzione della carne anche per confutare l'eresia propagata da Imeneo e Fileto mentre ancora viveva l'apostolo di questi si parla nella seconda lettera a Timoteo citata qui 2.17 costoro asserivano che la risurrezione menzionata nelle sagre scritture non è la corporea ma la spirituale per la quale si risorge dalla morte del peccato alla vita della grazia. Con le parole dell'articolo evidentemente si esclude quell'errore e si conferma la risurrezione del corpo. Ora vedete purtroppo la nefandezza e l'orrore anche l'orrore e anche l'errore sottile dell'eresia è vero è è benché vero che se non si risorge spiritualmente la risurrezione della carne non sarà molto gradevole perché sarà per la condanna quindi partecipino partecipano della risurrezione di Cristo gloriosa solo quelli che sono risorti spiritualmente sono passati dal peccato alla vita della grazia ma questo non è il significato di questo articolo molto interessante notare che qui carne è usato come sinonimo di corpo in greco così come in ebraico ma più in greco ci sono due termini distinti per indicare la carne la carne in greco è sarx il corpo è soma ecco e giustamente il catechismo nota che nella secca scrittura a volte quando si parla di carne per esempio il verbo si è fatto carne lì carne vuol dire il verbo si è fatto uomo cioè uomo come composto di anima e di corpo peraltro carne nella secca scrittura nell'antico testamento in particolare indica l'uomo nella sua condizione di creaturalità di debolezza mortale è molto interessante il verbo si è fatto carne lui non aveva il peccato originale nessun peccato attuale però ha condiviso dice San Paolo una carne simile a quella del peccato quindi segnata dalla debolezza ma qui significa risurrezione del corpo e quindi è insegnata indirettamente come presupposta la verità peraltro confermata in altri luoghi della scrittura dell'immortalità dell'anima allora una cosa fondamentale che dobbiamo imparare cari amici non è possibile non è proprio possibile che noi un giorno cesseremo di essere sono stato chiaro spero questo non se lo deve mettere proprio in testa primo per esempio se uno ce l'avesse bene in testa ma sono disperato prendo la cari dopo 38 e mi suicido non risolvi nessun problema perché non puoi cessare di essere ti ritroverai col corpo cadavere ma l'anima è viva e dove va l'anima se tu ti suicidi che fine fanno le anime una volta che sono ecco ecco perché è fondamentale il quesito sulla morte che fine facciamo quindi questo è il primo punto focale importante secondo la risurrezione della carne si deve illustrare con le scritture paragrafo 130 sarà cura del parroco illustrare questa verità con esempi tolti dal vecchio e dal nuovo testamento e da tutta la storia ecclesiastica vi sono infatti dei richiamati a vita da Elia primo re 17.22 da Eliseo secondo re 4.34 nell'antico testamento oltre quelli che risuscitato a morte il nostro signore Matteo 9.25 alcuni furono risuscitati dai santi apostoli Atti 9.40 e da altri moltissimi ora queste resurrezioni confermano l'insegnamento dell'articolo come infatti crediamo che molti furono risuscitati da morte così deve credersi che tutti saremmo richiamati alla vita anzi il miglior frutto che dobbiamo ricavare da questi miracoli è appunto di credere con la fede più grande questo articolo ora questi sono dati oggettivi ci sono stati un sacco di risurrezioni nell'antico e nel nuovo testamento operati dai profeti Elia ed Eliseo operati da Gesù ci sono fatte tre Lazzaro è l'ultima la figlia del sinacolo Gairo e il figlio dell'aiuto di Nain gli apostoli 9.40 hanno risuscitato i morti tantissimi santi hanno risuscitato i morti quindi questo che cosa dimostra la possibilità che un'anima che dopo la morte si è separata dal corpo divenuto cadavere possa tornare a rianimarlo punto quindi il fatto è possibile non solo è possibile è dimostrato ok e perché il nostro Signore poi fosse creduto ancora di più nella sua natura divina e anche per lasciare prima della sua passione morte e risurrezione io credo un segno ancora più grande della fede nella risurrezione ha risorto Lazzaro dopo quattro giorni dalla morte quindi quando era già cominciato il processo di decomposizione sono molti i testi di cui parloci che posseggano una conoscenza pur mediocre delle sacre scritture potranno servirsi conoscenza mediocre che un parroco non dovrebbe avere ecco ancora una conoscenza bella approfondita i più notevoli sono nel Vecchio Testamento e si possono leggere ancora in Giobbe dove egli dice che nella sua carne vedrà il suo Dio in Daniele dove parla di quelli che dormono nella polvere della terra per svegliarsi altri alla vita eterna e altri all'eterno brobrio Daniele 12.2 nel Nuovo Testamento poi abbiamo quel che San Matteo riferisce circa la disputa che il Signore ebbe con i Sadducei che non credono nella risurrezione lo ricorderemo il brano quello che c'è a sette cose dice che la moglie che era andata in sposo a sette mariti dice e quindi nella risurrezione di chi sarà la moglie il passo dove Gesù spiega che i figli di questo mondo prendono moglie e marito ma i figli della risurrezione non hanno moglie né marito con il che afferma ciò fatto un ciclo di catechesi a riguardo che in paradiso il sesso non c'è non c'è quindi l'idolo considerato la maggior fonte di piacere gratificazione in questo mondo una persona una vita con tutto il sesso che vuoi che bella vita eccetera eccetera il paradiso non c'è il paradiso che è il luogo delle delizie per antonomasia dove ogni nostro desiderio sarà soddisfatto dalla potenza divina non c'è questo significherà qualcosa no? anche quello che narrano gli evangelisti intorno all'ultimo giudizio Matteo 25 31 Gesù afferma chiaramente via da me maledetti e venite con me benedetti dal padre mio quando parla del giudizio universale si aggiunga anche quel che espone con tanta putezza l'apostolo scrivendo ai fedeli di Corinto e di Tessalonica sulla risurrezione ora step successivo utilità degli esempi paragrafo 131 ma sebbene questa verità sia certissima per fede gioverà molto mostrare con esempi e con ragionamenti che quanto la fede propone di credere non è contrario alla natura e alla ragione umana di fatti l'apostolo così risponde a chi domandi come possano risorgere i morti o sciocco quel che su stesso semini non nasce se prima non muore e seminandolo non semini il corpo che nascerà ma un semplice chicco per esempio di grano di altro genere poi gli dai il corpo come vuole e poco dopo dice si semina nella corruzione e gli risorgerà nell'incorruzione a questa similitudine San Gregorio mostra che se ne possono aggiungere molte altre la luce gli scrisse ogni giorno esce dai nostri occhi come se morisse e ritorna di nuovo come se risorgesse gli alberi perdono il verde e di nuovo lo requistano come se risorgessero i semi muoiono impudridendo e risorgono in nuovo germinando vedete che bellissimi esempi che vengono fatti no? cioè di argomenti che sostengono la reale possibilità della risurrezione tratti dai cicli della vita se chi ha caduto in terra non muore rimane solo dice Gesù se muore muore molto frutto produce molto frutto e questo ad esempio è elaborato è sviluppato da San Paolo no? seminandolo quel che è tutto stesso semili non nasce se prima non muore la luce per quanto riguarda i ritmi delle giornate ogni giorno muore sparisce dai nostri occhi però è anche vero che ogni giorno risorge all'alba gli alberi d'inverno seccano d'estate rifioriscono eccetera questi sono una serie di esempi poi si deve dimostrare con argomenti paragrafo 132 anche le ragioni che vengono addotte dagli scrittori ecclesiastici possono essere adatti a provare questa verità in primo luogo essendo l'anima immortale e avendo una propensione naturale come parte dell'uomo al corpo umano si dovrà ritenere che non sia naturale per essa restare sempre divisa dal corpo e poiché ciò che è contrario alla natura ed è violento non può durare a lungo sembra ragionevole che si ricongiunga al corpo nel seguito che vi sarà la disoluzione dei corpi questo è molto molto orientale e di questo argomento il salvatore si servì quando disputando con i saggi sucede l'immortalità delle anime dedusse la risoluzione dei corpi questi sono argomenti chiaramente di ragione non galileiana quindi non incontrovertibile stringendo al cento per cento però allora l'anima diceva Sant'Ommaso d'Aquino è la forma del corpo quindi è stata noi non siamo angeli ecco perché tutto il platonismo con la resistenza delle anime di mortalità dell'anima questa accentuazione come dire estremistica della dimensione spirituale dell'uomo è un po' troppo perché perché l'anima è la forma del corpo quindi vuol dire che quello che noi viviamo attraverso la morte come la viviamo ora è un fatto innaturale innaturale che l'anima si separi dal corpo umano è un fatto completamente innaturale ed anche questo ci fa capire la serietà della gravità del peccato originale no? Proseguo secondo Dio che è sommamente giusto ha apparecchiato supplizi per i cattivi e premi per i buoni moltissimi però muoiono senza aver scontato la pena e più ancora senza aver ricevuto il premio delle loro virtù dunque le anime dovranno ricongiungersi necessariamente ai loro corpi perché questi di cui gli uomini si servono per peccare ricevano il castigo o il premio delle loro azioni questo argomento è stato trattato con molta cura da San Giovanni Crisostomo in un'anumeria al popolo di Antiochia anche questo questo argomento spero che sia chiaro no? anche se argomenti ecco da dove vengono le epiteri per chi parla in un certo modo di tridentino e medievale no? Dio che è sommamente giusto ha apparecchiato supplizi per i cattivi e premi per i buoni facciamocene una ragione amici cari perché è importantissimo fare questa cosa ora e quelli che muoiono senza aver scontato la pena e più ancora senza aver ricevuto il premio delle loro virtù quindi intende non aver ricevuto la pena dei peccati commessi né il premio per le virtù in questa vita dunque le anime dovranno ricongiungersi generalmente ai loro corpi perché questi di cui gli uomini si servivano per peccare ricevano il castigo e il premio delle loro azioni il castigo riguarda tutto l'uomo e il premio riguarda tutto l'uomo nella sua complessità nella sua nel suo essere composto di anime di corpo prosegue ecco perché l'apostolo parlando della risurrezione dice se per questa vita sola speriamo in Cristo ecco lo che ho detto prima siamo i più miserabili degli uomini tali parole nessuno vorrà riferire alla miseria dell'anima che è mortale e se anche i corpi non risorgessero pure nella vita futura potrebbe godere la beatitudine ma bisogna intenderle come riferite a tutto l'uomo se infatti al corpo non fossero dati i premi con degni per le sue pene eseguirebbe che colori quali come gli apostoli hanno sopportato nella vita tante disgrazie e travaglie sarebbero più miseri e mortali la stessa cosa ma molto più chiaramente è insegnata da San Paolo con queste parole testaronicesi sentite noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio della vostra pazienza e fede in mezzo a tutte le persecuzioni e tribolazioni che voi sopportate indizio del giusto giudizio di Dio perché siate ritenuti degni del regno di Dio per cui anche patite è giusto che Dio renda tribolazione a coloro che vi affliggono e a voi tribolati di riposo con noi all'apparire che farà dal cielo il Signore Gesù con i suoi potenti angeli in un incendio di fiamme per fare vendetta di coloro che non hanno riconosciuto Dio e non obbediscono il Vangelo del nostro Signore Gesù attenzione ai termini cioè la giustizia è giustizia la giustizia premie buoni punisce malvagi e comincia a farlo anche da questa vita i castighi divini sono le tra virgolette non è anche troppo punizioni permesse o mandate da Dio per la nostra correzione in questa vita mentre le pene eterne o anche le pene temporali del purgatorio sono retributive cioè è quello che ti meriti è quello Dio ti dà né più né meno sta cosa bisogna sta cosa che un tempo era proprio la bici era ovvia oggi non lo è se vogliamo fare un regalo a noi stessi facciamo presto a riappropriarcene io sono tanti anni che parlo della divina giustizia non mi diverto affatto a fare questa cosa perché anche a me magari piacerebbe che che il nostro Signore chiudesse un occhio qualche volta su qualche nostra misera su qualche nostra debolezza ma altro è quello che a noi ci piacerebbe come a chi piace che l'inferno è vuoto ti piacerebbe ma non lo è noi non possiamo regolare la nostra vita sul mi piacerebbe o su quello che sento noi dobbiamo regolare la nostra vita sulla base di argomenti e fatti oggettivi ancora inoltre gli uomini fin tanto che l'anima è separata dal corpo non possono raggiungere la felicità piena ricolma di ogni bene infatti come ogni parte separata dal tutto è imperfetta così è anche l'anima che non sia unita al corpo perciò ne segue che è necessaria la risurrezione dei corpi perché nulla manchi alla completa felicità dell'anima con queste ragioni e con altre simili il paro potrebbe studiare i fedeli su questo articolo questo è molto importante e anche questo cioè dopo la morte corporale i buoni ci vanno direttamente in paradiso ma manca ancora qualcosa manca ancora qualcosa perché il corpo è diventato cadavere non è certamente una bella cosa non è una cosa di cui le anime sono contese abbiamo diventato solo l'anima oppure volendo aprire le parentesi di tenera amata ah vabbè su tutti quanti gli spazi tempi della vita terrena e quindi ma contento di quelli eh no eh no no la felicità piena si raggiungerà con il corpo gloriosamente risorto perché noi ripeto siamo uomini non siamo angeli gli angeli gli angeli sono puri spiriti lo spirito di un angelo non è destinato anzi non lo fa a diventare carne ok dice inoltre gli uomini fin tanto che l'anima separata dal corpo non possono raggiungere la felicità piena ricolma di ogni bene infatti come ogni parte separata dall'altro un tempo perfetto così lo è anche l'anima che non si rende un corpo li leggo perché ripetita io quanto su queste cose no perciò ne segue che è necessaria la risurrezione dei corpi perché nulla manchi alla completa felicità dell'anima ancora 133 tutti gli uomini risorgeranno sarà inoltre necessario spiegare secondo la dottrina dell'apostolo quali debbano essere i risuscitati dalla vita poiché scrivendo ai corinzi e gli dice come in Adamo tutti muoiono così in Cristo tutti saranno bibificati prescindendo dunque da qualsiasi differenza di buoni e cattivi tutti pur non avendo la stessa sorte risorgeranno da morte quanti vestono il bene in risurrezione di vita e quanti il male in risurrezione di condanna quando diciamo tutti vogliamo indicare tanto quelli che al momento del giudizio saranno già morti quanto quelli che moriranno San Girolam infatti scrive che la chiesa ammette l'opinione che tutti dovranno morire nessuno è accettuato e che questo è più vicino al vero la stessa opinione è anche quella di Sant'Agostino ne ad essa contraddice quel che era posto lo scrive ad essere unicesi quelli che morirono in Cristo risorgeranno i primi in seguito noi che viviamo che siamo rimasti verremo rapiti nell'aria insieme con quelli incontro a Cristo Sant'Ambrogio infatti spiegando questo passo dice nello stesso rapimento verrà prima la morte come un sopore di modo che l'anima uscita ritorna in un attimo nell'essere sollevati moriranno affinché giungendo preso il Signore dicevano la vita per la presenza del Signore perché con il Signore non possono esserci morti tale opinione viene approvata dall'Uterità di Sant'Agostino nella città di Dio questo è un altro punto fondamentale oggi sono questi passaggi della lettera dei tessalonicesi un pochino critici dice allora tornerà il Signore anche noi che siamo nell'aria andremo direttamente incontro al Signore no la lottria dominante della Chiesa si passa comunque attraverso la morte e poi attraverso la risurrezione però è interessantissimo nell'essere sollevati quindi qui siamo al momento della della parousia no quindi sia la morte non sarà certamente una morte di molti anni ma forse anche di pochi minuti o di pochi secondi di modo che l'animo uscita ritorni in un attimo e nell'essere sollevati moriranno affinché giungendo presso il Signore ricevano la vita per la presenza del Signore perché con il Signore non possono esserci morti bellissima questa frase io non so io non so il senso che gli viene data ma con il Signore non ci possono stare i morti il Signore è vita è il Dio della vita quindi il nostro corpo non può restare troppo a lungo cadavere è possibile è evidente che anche se questo a noi appare come un momento lontano perché la parousia sembra essere lontano ma davanti a Dio mille anni sono come un giorno di ieri che è passato mille anni sono come un giorno e un giorno sono come come e un giorno è come mille anni quindi un'altra cosa cosa risorge andiamo a leggere il paragrafo 134 risorgerà il corpo di ciascuno ma poiché è molto importante la certezza che sia lo stesso ed identico corpo di ciascuno di noi quantunque corrotto e ridotto in polvere risuscitare alla vita il parroco deve accuratamente spiegarlo tale è il pensiero dell'apostolo quando dice quest'essere corruttibile deve rivestirsi di incorruzione volendo manifestamente indicare con il termine questo quest'essere il proprio corpo anche giobbe profetizzò di essi in modo chiarissimo dicendo nella mia carne vedrò il mio dio lo vedrò io stesso i miei occhi lo mireranno e non un altro ciò risulta dalla stessa definizione della risurrezione perché secondo il damasceno essa è un richiamo a quello stato dal quale sei caduto finalmente se consideriamo la ragione già sopra indicata per cui avverrà la risurrezione non ci può essere alcun dubbio in proposito diciamo infatti che i corpi saranno risuscitati affinché ciascuno abbia quel che è dovuto al suo corpo secondo quel che operò sia di bene che di male l'uomo deve dunque necessariamente risorgere nello stesso corpo con cui servì a Dio o al demonio per ricevere con il medesimo corpo le corone del trionfo e i premi o per soffrire le pene e i suppizi vedete ancora come si continua a induggiare sul doppio esito della risurrezione e sulla necessità che il corpo con cui abbiamo operato in questa vita partecipi della sentenza premio o trionfo pena o supplicio ultimo paragrafo per oggi il corpo risorgerà integro paragrafo 135 e non risorgerà solo il corpo ma anche tutto ciò che è parte della sua vera natura del decoro e ornamento dell'uomo deve ritornare a lui abbiamo uno splendido argomento di Sant'Agostino tratto la decivitate dei non vi sarà allora nei corpi ombra di difetto se alcuni furono troppo obesi e grassi per la pinguedine non prenderanno tutta la massa del corpo ma quel che supererà la misura normale sarà considerato superfluo al contrario tutto quello che nel corpo sarà consumato da malattia o vecchiaia sarà ridonato a Cristo per virtù divina come a coloro che furono graci di permagrezza Cristo riparerà non solo il corpo ma tutto quello che fu tolto dalla miseria di questa vita sta cominciando a dire che i nostri corpi saranno bellissimi e proporzionati così in un altro luogo non riprenderà all'uomo i capelli che aveva ma a quelli che gli stavano bene secondo il passo tutti i capelli del vostro capo sono numerati essi devono ripararsi secondo la dina sapienza mi avrebbe da fare una battutina questa considerazione di Sant'Agostino diciamo che mi piace assai per quanto riguarda i cosiddetti capelli anzitutto ci saranno ridonate tutte le membra che fanno parte della completa natura umana guardate che ora ci ho fatto una piccola ironia ma questo non è un gioco cioè la perdita per esempio dei capelli è una cosa che rappresenta una piccola menomazione del decoro di un essere umano i capelli sono stati lo dice anche San Tommaso sono stati creati da Dio per decoro uno li perde però contro la propria volontà non è come se li strappa è vero che adesso ci sono tutti quanti i ritrovati chirurgici estetici per farti il trapianto l'autotrapianto eccetera tutte queste cose qui no ma insomma una cosa molto dolorosa oltre che molto costosa no quindi quindi ci saranno ridonate tutte le membra che fanno parte della completa natura umana per esempio se uno è nato cieco se uno è nato sordo o c'è diventato eh zoppo storpio minorato voi capite assimilare bene questi concetti parte la consolazione ma anche l'indirizzo come dire un poverino che ha la sindrome di Down risorgerà ma mica penserete che risorgerà con la sindrome di Down non risorge con la sindrome di Down un poverino che è autistico mica risorge con l'autico con l'essere autistico con l'autismo la risurrezione dei buoni non è una semplice rianimazione se tu riprendi la caratteristica quando sei morto è morto 80 anni va bene con le rughe senza più capelli con la barba non in perfetta forma fisica ovviamente ma non funzionerà così ma pensate a tutti quanti gli aborti eugenetici che si fanno perché se uno viene a sapere che il bambino potrebbe avere la sindrome di Down e abortisce questo è un aborto eugenetico ma se uno crede nella risurrezione della carne è che questa creatura che misteriosamente attraverso questa malattia partecipa e porta la croce di nostro Signore in questa vita ma risorgerà meravigliosa e ci pensa due, tre, quattro, cinque, cinquanta volte prima di andare a abortire l'abominevole orribile delitto quindi il corpo di società integro e capite il corpo integro intero e perfetto i minorati lì non ci sono più scherzi della natura non ci sono più zero non ci sono più mostri ovviamente dalla parte dei buoni perché dalla parte dei cattivi non è proprio così vado avanti con la lettura e concludiamo inoltre è certo che la risurrezione appunto come la creazione va annoverata fra le migliori opere di Dio come dunque tutte le cose dal principio della creazione uscirono perfette dalle mani di Dio così dovrà venire anche nella risurrezione attenzione le opere della creazione uscirono perfette dalle mani di Dio questo è una verità di fede perché Dio non fa le cose imperfette quelle le facciamo noi voi capite che per esempio una dottrina dell'evoluzione è la contraddizione in termini di quello che abbiamo appena ascoltato quindi calma e cautela quando ci parla di certi argomenti né ciò si deve dire solo dei martiri dei quali Sant'Agostino afferma non saranno senza quelle membra perché la mutilazione non potrebbe non essere un difetto del corpo altrimenti quelli che furono i decapitati dovrebbero risorgere senza la testa però rimarranno nelle loro membra le cicatrici della spada più risplendenti dell'oro e di qualsiasi pietra peziosa come le cicatrici delle piaghe di Cristo cioè si riconoscerà da parte di tutti che sono stati martirizzati e la gloria chiaramente del martire è una gloria secondo Sant'Agostino tra le tre categorie eccellenti dei santi del paradiso ci sono i martiri i vergini e i dottori quindi perché perché il martire ha dovuto dare la vita tutto versare il sangue il dottore si è dovuto affaticare nella conoscenza e nella trasmissione della sana dottrina il vergine o la vergine ha completamente rinunciato anche nella forma buona e lecita all'esercizio della sessualità per tutta la vita e attenzione concludo ciò si afferma con verità anche dei cattivi anche se le loro membra siano state amputate per una colpa personale poiché l'acutezza del dolore sarà in ragione delle membra che essi avranno se i parroci considereranno attentamente tutto questo non mancheranno loro i fatti e i pensieri per muovere e infiammare all'amore della religione gli animi dei fedeli affinché considerando i fastidi e le afflizioni di qua giù dirigano i loro ardenti desideri verso la gloria beata della risurrezione preparata per i giusti e per i pi questa dimensione c'è e ci deve essere noi triboliamo soffriamo siamo in croce ci proviamo almeno ma in vista di questo perché ci sarà molta differenza tra chi ha fatto questo e chi non ha fatto questo perché anche i corpi dei dannati risorgono ma risorgono per la condanna verità di fede da focalizzare e da tenere mi raccomando chiare amici direi di mettere punto per non mettere troppi argomenti tutti quanti insieme Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga per chi vorrà ci vedremo e ci aggiorneremo con la prossima puntata laudentur Jesus et Maria